ero sempre chiusa in me stessa poi ho messo il tumore fra parentesi non riuscivo a guardarmi allo specchio poi ho messo il tumore fra parentesi un tumore sconvolge la vita fra parentesi punto org ti aiuta a mettere la malattia fra parentesi nelle tue giornate qui trovi sostegno pratico ed emotivo consigli utili per vivere al meglio anche questa parentesi il punto sei tu non il tumore